Grazie a T2Savatar, uno dei miei follower, oggi voglio dare un'occhiata a Magneton Legacy per questa Fusion Cup Iniziamo immediatamente con uno scontro tra antivolanti e possiamo subito ovviamente notare che grazie a Bon Magnete il Bon Magneton effettivamente è un avversario tosto per Froslass anche se in questo momento come avete visto dimostra di essere anche un po' fragilino però grazie alle due super di tipo acciaio il Bon T2Savatar si porta a casa comunque un bellissimo vantaggio di scudi Vediamo un altro Pokémon abbastanza fuori meta per questa Coppa che è il Bon Slowbro che si trova in questo momento costretto ovviamente a scudare palla ombra del suo avversario può permettere solo in quanto grazie a Magneton ha ottenuto un discreto vantaggio con gli scudi quindi in questo momento vabbè seguiamo anche Slowbro e anche qui è un bel matchup interessante direi che Slowbro può far male a Probopass con un bellissimo Idropulsar vediamo Probopass è molto bulky ma vediamo come va e infatti comunque Probopass resiste ma il danno è molto alto e qui si chiude questo match direi con un matchup abbastanza scontato perché qua non dovrebbe avere molto difficoltà T2Savatar col suo Altaria ad avere ragione di Marowak e si chiude questa prima partita questo primo video nel secondo video vediamo ancora in apertura Magneton contro Noctowl è molto bravo il suo avversario a fare uno switch immediato anche se però invece resiste bene resiste bene Gara Gastrodon un grande switch dell'avversario di T2Savatar che a questo punto si va a spostare su un match tra Mad Boy anche qua abbiamo occasione di analizzare il buon Gastrodon ora non vorrei sbagliarvi ma direi che l'avversario di T2Savatar in questo momento è Ludokirk quindi lo ringraziamo anche lui per per comunque involontariamente averci fornito un'altra analisi da fare sul buon Gastrodon un altro Pokémon particolare per questa Coppa che si dimostra abbastanza tosto dato che impensierisce comunque uno dei King della Coppa che è il buon Whiskash e qua vediamo finalmente un buon Magneton contro un volante in questo caso Altaria vediamo carica molto in fretta il danno non è elevatissimo come può essere quello di un Bora di un Whiskash però ovviamente essendo acciaio resiste bene e può assestare un altro un'altra scarica all'Altaria nemico che comunque si dimostra quindi in questo caso insomma vediamo che contro Altaria non è assolutamente male anzi qua il match si sposta è 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 si trova subito contro un Whiskash che direi che non è proprio comodissimo per Magneton nonostante Magneton abbia attacchi è di tipo elettro ma è il fatto che Whiskash sia anche di tipo terra lo rende abbastanza duro diciamo che lo switch di Tidus è uno switch molto rischioso vediamo cosa ne riesce a tirar fuori va di osso clava Whiskash ovviamente sempre forte ormai cos'è la 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 timeless che è un pokemon fortissimo e vediamo un attimino Tidus decide di giocarsi la carta Polibrat però davanti si trova Bronzo un nemico che resiste abbastanza bene e qua finalmente vediamo un altro scontro tra antivolanti qua Tidus va direttamente per scarica che fa molto male a Bronzong decide di scudare qua ottimo bait del suo avversario perché appunto qua vedete pur essendo fragile Magneton comunque carica veramente in fretta effettivamente quest'altro scontro contro un antivolante si dimostra ottimo per Magneton che però deve capitolare contro il Whiskash qui è come prima si chiude con un mirror ma purtroppo per il mio follower Tidus non ha il vantaggio dell'energia e qui si chiude con un'altra super ringraziamo nuovamente Tidus e i suoi avversari per il materiale fornito e al prossimo video